Ciao a tutti, oggi andremo a vedere Stella, un gioco platform avventura sviluppato a Skybox Labs, disponibile sul PC, Switch e Xbox One ad un prezzo di circa 20€, ed è anche disponibile su Apple Arcade. Trattandosi di un gioco molto simile ai vari Limbo e Inside, la trama di Stella non viene mai spiegata in modo esplicito. Infatti, non ci sarà nulla che spiega qualcosa se non che dovremmo andare noi a cercare di capirci qualcosa. Difatti, in stela, saremo una donna vestita di bianco, catapultata vicino a un monolite, senza palette emotivo, e la nostra protagonista in questo caso dovrà affrontare insidie, trappole e mostri vari per raggiungere la conclusione dell'avventura. Essendo che ci muoviamo in uno scenario in 2,5D, avremo solamente esposizione, così come succede nel citato Limbo, la levetta sinistra per i spostamenti e due pulsanti per interazione e salto. Per quanto riguarda la grafica, essa si adatta ai vari livelli, infatti i background vanno da fulchio per capire sia le volverse della storia, sia come punto di riferimento ambientale. Il sonoro, allo stesso tempo, si adatta anche lui, alle varie situazioni e ai vari nemici che andremo a sconfiggere. Quindi, il voto finale è un bel 7. Adesso andremo a vedere la parte del gameplay. Allora, possiamo cominciare. Allora, possiamo cominciare. Allora, innanzitutto, già qua si vede c'è il mononite che abbiamo detto prima. Quindi, allora, facciamo così. Continua tanto, praticamente, eravamo, cioè eravamo. Ho fatto il primo pezzo, giusto per capire un po' i pulsanti. Allora, prima di tutto, ci siamo. Cominciamo da qua, dall'inizio, all'iozio. Noi ci vediamo, appunto, davanti a questo mononite senza alcuna apparente spiegazione. Però, vedi, adesso, per esempio, no? Chi ero qua, no? Mi l'ha dato il coso per andare avanti. Buh. Vabbè. Ok, e qua siamo alla scena di prima. Allora. Vediamo che qua è tutto un mondo apocalittico. Ah, di qua. Ma vaffanculo, va. Eppure, guarda, ti dirò la verità. Non c'entra niente, ma io ti giuro, ti giuro che l'altra volta l'avevamo preso dal, dal cosa, dal, da quello principale. Perché qua io ti giuro che l'altra volta l'avevamo preso dal, 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 dal. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Se mi spieghi come devo andare di là, se mi spieghi come devo andare di là, vabbè, fai niente, proviamoci. Forse no. Aspetta un attimo. Dai verso di qua. Ce l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatto. Sì, va bene. CHETTI Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.